36, 14, 36, Leo Giurice 35 Bè Marti, bè Grazie a tutti. Darren Barnes, a table 25, please. Brands, a table 27. Manuel Muñoz, table 46. Table 18, please. Thank you. Manuel Muñoz, referee. Pascal Sheep, go. Manuel Muñoz, referee, table 46. Pascal Sheep, table 17. Simon Stewart, referee table 21, please. Grazie. 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 Maurizio Tarren Paros Ulster Referee Table 25 Tarren Paros Paros Ilhow Ilhow Eol San fredo per deixar ben preparat Ilho sa per a la mitra, mitx-gole Ho sats fer Grazie. Simon Stewart, referee, table 21. Grazie. 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 Forza, è forza. Concentrato che è lunghissimo. Grazie. Grazie. Per la prima volta, 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 per la prima volta. Piano piano, che mancano 28 secondi. Grazie a tutti. 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 a tutti.